quando abbiamo finito l'allenamento quando avete finito l'allenamento c'è una cosa fondamentale da fare la reintegrazione almeno 30 minuti entro i 30 minuti perché perché è la cosiddetta finestra anabolica ed è il momento in cui il tuo corpo assorbe tutto a una velocità altissima quindi tu devi integrare carboidrati e aminoacidi perché recuperi le energie perse e ricostruisci il tuo muscolo perché lì il corpo proprio assorbe tutto come una spugna prima di mangiare sì assolutamente è sì infatti quello il momento ideale per l'integrazione perché nell'integratore tu hai tutto quello che serve già pronto per essere assorbito se invece mangi ora che digerisci passa almeno un'ora e mezza e sei dolori se finisce l'allenamento con dei dolori cosa che succede spesso se finisce l'allenamento con dei dolori e che sono i famosi doms allora devi integrare antiossidanti sostanze che siano importanti per aiutare il l'ossigenazione del muscolo e questo si fa si utilizzano per periodi lunghi perché comunque i dolori vanno prevenuti perché la fatica la tua amica e integrazione significa benessere sport recovery plus l'eccellenza per recuperare dopo gli allenamenti soprattutto dopo un allenamento dura questo va assunto entro 30 minuti dell'allenamento e ti senti wow esatto ti senti al top perché hai carboidrati che servono per integrare l'energia che hai perso durante l'allenamento amminoacidi essenziali che servono per il muscolo per riforma riformarlo perché il muscolo viene degradato durante l'attività quindi se tu gli dai aminoacidi si ricostruisce bene e quindi stai meglio sei pronto per gli allenamenti successivi lo sciogli in 350 più o meno si abbondi perché così ti reidrati anche assolutamente io ho scelto il lime e poi succede che al termine di un allenamento hai dei dolori è normale perché se carichi se fai un allenamento soprattutto molto intenso no doms plus è la tua medicina è la tua è la tua parte che dici finalmente ho questo perché che effetto fa sul mio corpo sui miei dolori praticamente è un liquido che va utilizzato per un lungo periodo perché più o meno tre settimane quindi ne sempre nel periodo di carico dove stresso di più il muscolo perché fa in modo che aumento l'ossigenazione muscolare e quindi riduco i famosi doms che sono quei dolori che hai a fine allenamento e anche il giorno dopo il consiglio è di consumarlo quando la sera prima di dormire nell'acqua si nell'acqua faccia come vero bickerbacca